E il tenere in fondo ci dà diverse lezioni, da una parte qui sono fatte alcune delle più straordinarie e più antiche opere di bonifica nei confronti di un fiume e contemporaneamente quella civiltà, un mila anni fa, fu in grado di produrre qualcosa come 100-150 archedotti, opere che i romani chiamavano di utilitas pubblica.